Allora, intanto a parte la presentazione di Giorgio, la cosa che voglio ringraziare veramente tutti perché martedì sera voi siete tornati allo studio, eccetera, eccetera, dalle tutte le attività quotidiane e vedo che ci sono la bellezza di quasi 170 partecipanti, quindi vi faccio i complimenti e mi sento onorato perché è un messaggio di stima anche diretta, quindi mi sento veramente onorato. Come ha detto Giorgio, questa è una prima parte dei protocolli, oggi si parla di applicazioni pratiche, mentre invece alla scuola si va sulla scienza profonda e domenica per esempio per chi parteciperà vi do una bella ripassata di biochimica della cellula tumorale, quindi preparatevi al secondo step di questa bella botta che alla fine è a forza di picconare, sicuramente ho visto in molti colleghi questa cosa li sta cominciando a stimolare tanto, che vanno a rivedere tutti i meccanismi cellulari in salute e in malattia, quindi questo mi fa molto piacere perché... e invece alle 26, come si è concordato con Giorgio, invece affronteremo un po' l'aspetto della nuova linea che da qualche tempo a Giorgio, quindi Epinutrix e soprattutto anche le formulazioni fisioterapiche complesse che sono molto importanti. Invece stasera si parla di un argomento che è la base, quello che Giorgio ha introdotto, cioè parlare della biodisponibilità. Ora io mi condivido subito lo schermo. Sì, vai. Aspetta un attimo. Bene. Se lo metti in presentazione. Metti presentazione. Sì, però non riesco, ho aspettato un attimo perché la presentazione... Vai su. No, lo sono, ma infatti è che non vedo la presentazione. Qui sotto, chiudi e basta rimpecciolisci un pochettino il tuo... Eh, infatti, perché... esatto. Aspetta un attimo. Posso no, vai su in cima e fai... Aspetta. Nuova. L'ho sempre vista la presentazione, non capisco come mai non mi... Guarda. Non mi appare... Qui in cima? Sì. Ah sì, ho visto. Aspetta. Non lì. Eh. Non lì. No, è andata bene. Dove stai... Non sto vedendo il... Guarda, in cima, a sinistra c'hai, riproduci. A sinistra, tutto a sinistra, riproduci qua. Sì. Sotto lì, riproduci. Riproduci? Non lo vedo, Giulio, scusami, eh. Ma dov'è? Vuoi? Aspetta. Ecco, ecco, forse ci sono. Vai. Fermo un attimo. Vai, ok, perfetto, eccoci. Bene. Eccoci. Vai. Allora, argomento, nutracerfici in soluzione... In soluzione... Aspetta, mi sposto, chiudo anche la vostra finestra. Eccoci, perfetto. Così riesco a vedere meglio. Benissimo. Allora, nutracerfici in soluzione colloidale, ad elevata biodisponibilità. Questo è il concetto che deve introdurre in soluzione colloidale. Cos'è la visione? Tutti la vediamo di parlare, certo. Però è quella che condiziona molto spesso la reale efficacia di un nutraceutico, ovvero il nutrizionale ad azione farmacologica. Cioè, non parliamo di integratori. Mi dà fastidio a me sta parola. Dice, ma lei mi riscrive di integratori anche tassino alla paziente. Aboliamo questo termine. Si parla di nutracerfici. Cioè, ci sono anche... Certo, se io ho bisogno di potassio perché faccio attività fisica di... Quello posso considerarlo un integratore. Sto integrando qualcosa che fa parte di un organismo. Ma molto spesso, attenzione, si sta parlando invece di nutracerfici, ovvero prodotti estratti da alimenti concentrati, ad attività farmaceutica-parmacologica, quindi nutracerfici. E questo è quello che naturalmente si deve considerare. Allora, cos'è la disponibilità? Una volta una studentessa mi fece una domanda molto interessante, mentre ero lavorato, mi mi disse, come mai io ho, giustamente una ragazza molto brava, mi disse, mi sono accorto che la concentrazione minima inibente della moxicillina è 100 milligrammi, per arrivare nel tessuto, e io invece vedo che danno somministrano 500 milligrammi, come complessa. E gli dissi, brava, semplicemente perché la biodisponibilità della moxicillina è 20%. Cioè, si danno quei 500 per averne almeno 100, cioè un quinto reale. Quello è quello che passa. Allora viene fuori tutto un discorso e dice, bene, allora, quale sono allora le forme di biodisponibilità superiore? Dipende dalla formulazione, da come, certo, assolutamente, ma chiaramente uno dice, è indovenosa il 100%, lo sappiamo. Uno dice, va bene, ma da un punto di vista pratico, come faccio io a garantire una grande biodisponibilità, che attenzione può anche non essere sufficiente? E' bello è questo. Andiamo un po' se vado avanti. Ecco, guardate, intanto, si danno le formulazioni colloidali, perché noi siamo fatti fondamentalmente di colloidi. La nostra matrice cellulare, estraccellulare, è un colloide. Il citoplasma è un colloide, il plasma è un colloide. Avete mai visto, quando si fa l'analisi del sangue, centrifugate il vostro sangue, rimane la parte liquida, ovviamente, è chiaro che a questo punto il plasma, se c'è un anticoagulante, ma se non c'è un anticoagulante, poi c'è la ritrazione del coagulo, la parte colpuscolata sotto, e sopra quel siero spremuto dalla ritrazione del coagulo, voi lo mettete per esempio su un tavolino, dopo alcuni minuti diventa, si gelifica, è un colloide di fatto. Ebbene, fatto dalle proteine ovviamente hanno questa funzione, questa costituzione proteica, ma tutto il tessuto, diciamo, organico di fatto è un colloide. Allora, fare una formulazione colloidale significa andare da un punto di vista biologico, di disponibilità biologica, creare un qualcosa che affine a ciò con cui devi arrivare, cioè a cui devi passare le membrane biologiche, entrare nel torrente circolatorio, quindi soprattutto nel plasma sanguigno, per arrivare poi alla cellula, rifassare probabilmente altre membrane, per entrare magari nel citoplasma. Quindi, è chiaro che la formulazione colloidale è questa la grande forza di questa linea. E quello ora dice Giorgio, 25 anni, sì, certo, ma quello che a me mi ha sorpreso, certo io ho conosciuto Giorgio, il contemporaneo del self-food, quindi volentieri a Bologna sarà bello vedere il quarto di secolo in Italia e in Europa. Ma quello che poi mi ha più, diciamo, impressionato è stata la formulazione colloidale, cioè andare a fondo nel discorso colloidale. Perché guardate, questa è una soluzione, metto il sale in acqua e ho una soluzione, non vedo le particelle, sono così idratate e disperse, sono meno di un nanometro, 10 alla meno 9 metri, poi c'ho la sospensione, metto della terra in acqua, della sabbia, agito, dopo un po', dice, vedo apparentemente un sistema omogeneo, finché, e poi però, è riflessibile, è quel famoso corpo di fondo. Ma noi abbiamo una situazione intermedia, la dispersione colloidale, cioè le particelle sono comprese intorno a un micron, quindi 10 alla meno 6, quindi pensate, almeno superiore mille volte superiori già a uno ione, per esempio, o una particella completamente solvatata, ma mille volte, scusate, superiori, ma mille volte inferiori alla sospensione. Siamo nel mezzo, quindi 10 alla meno 9, 10 alla meno 6, 10 alla meno 3, eccoci, questo è l'ambito, diciamo, delle dimensioni. E cosa comporta questo? È, naturalmente, vedete, che questo qui, cosa ci da garantire a noi? Intanto, ci da garantire il fatto che ci sia un assolimento ottimale, dove non si debba evitare soprattutto questi picchi clamorosi che noi abbiamo quando c'è, per esempio, la somministrazione. Mauro, hai una voce che non si sente bene, non so come mai, una connessione molto... Non hai un'ottima connessione. Ma posso provare un attimo a alzare il... No, no, proprio la linea, la linea va e viene. Ah, beh, sai, essendo di sera, cioè non è facile, cioè soprattutto in zona di campagna. Spero... Ma comunque vi sentite fondamentalmente? Sì, sì, sentirti sì, però c'è una linea veramente disturbata. Ho capito. Vabbè, comunque, ritornando al discorso, come dicevo, delle formulazioni colloidali, vedete, questo fatto di avere appunto questo tipo di connessione, diciamo di concentrazione immediata e può eseguire, per esempio, certe formulazioni che ci hanno in picco e poi amorosamente, vedete, c'è un decremento immediato. Molti di queste formulazioni a livello orale fanno così, ma non cosa bisogna garantire, invece. Noi bisogna garantire che ci sia invece uno steady state, cioè un equilibrio, un equilibrio di concentrazione costante che possa poi garantire anche il passaggio dentro la cellula o perlomeno arrivare alla cellula per lavorare sui recettori anche presenti della membrana. Cioè il target è arrivare a livello tessutale, quindi intanto evitare gli sbalzi per dire sì, cioè il grande picco e poi però di fatto, cioè non alla fine la mia azione finisce lì. Quindi questo è un altro tipo di discorso, ma soprattutto garantire quella accessibilità cellulare per avere una concentrazione fondamentalmente stabile. Allora vedete, quando si parla di cinete d'assorbimento, guardate, c'è la pill, in inglese pillola, pastiglia, compressa, lì dipende molto come è formulata, certo. Poi abbiamo le capsule che già possono essere a rilascio ritardato e più specifico. Poi ci sono anche il passaggio di impaccio trasdermali, molto utile anche a livello, per esempio, di somministrazione ormonali, per carità. Poi c'è il sublinguale che è appena sotto l'intramuscolare, ma è quasi uguale, attenzione, anche lì dipende. Ma poi abbiamo uno spray introrale o sublinguale colloidale, eccolo qua. Quindi pensate, è superiore all'intramuscolare, quindi arriva oltre l'80%. Si attesta il suo assorbimento intorno al 90%. Anche l'intramuscolo non arriva appena all'80%. Chiaro che l'endovenosa arriva al 100%. Questo è il confronto. Perché la somministrazione è dura? E noi bisogna fare in modo, puoi vedere perché. Allora, quando io a volte mi diverto, mi diverto a volte quando dico, dice, allora uno va in farmacia, a colleghi farmacisti, a volte gli faccio un po'. Dice, mi dà, finto, dice, il cebion, vitamina C. E faccio finta di essere, ovviamente, una persona assolutamente al di fuori del campo. Dice, dottore, come la prendo? Come la prendo? La scioglio e la prendo? Eh no, carino. Eh, gli faccio. Eh no. Come disse a uno? Guardo, mi disse. Io la conosco. Eh, allora, mi devi dire che la divido in quattro. La devo dividere in quattro? Perché se no, io se ne prendo già 500 miligrammi. Non ne assorbo più di tanto. Allora, a me mi interessa invece avere uno steady state. Cioè, nel fatto che nei lipidi biologici, e in particolare il torrente circolatorio, per arrivare alle cellule in maniera costante durante la giornata e garantire l'azione 24 ore, la devo dare in più momenti. Quindi questo sarebbe giusto. Quindi dare un mille miligrammi diviso quattro. E questa dovrebbe essere la risposta giusta. Se non ci sono, formulazioni retard. Oppure magari gli spray da dare ste easy pace durante la giornata. Io devo garantirmi assolutamente che questa azione sia costante durante le 24 ore. Questo significa copertura. Ed ecco perché, vedete, questi ti immezi, la famosa farmacocinetica. Una parte della farmacologia che ci hanno ovviamente odiata, anche perché c'è anche matematica per capire questo, ovviamente, per forza. Quindi con integrali addirittura. Però questo fa la spiegazione molto logica di come va somministrato un preparato per avere un'azione 24 ore. Vedete che la sublinguale spray presenta tanti vantaggi, tantissimi. Passaggio diretto, è il capitolo epatico. Il sangue refluo del cavo orale, direttamente, passa nel latino destro del cuore. Certo, attraverso le vene che irrorano ovviamente il sublinguale. Quindi direttamente poi va quella che è la capa superiore, la spiegazione ovviamente è in bustaia per il latino destro del cuore. Quindi vedete un'azione immediata. Tant'è vero che la sublinguale è un'azione d'emergenza. È una somministrazione d'emergenza. Pensate alla trinitrina, dell'angina pectoris, no? Che di fatto è la nitrolicerina farmaceutica. Quindi questo significa proprio il vantaggio immediato. Utile per l'altro somministrazione al bisogno. Possibilità di personalizzazione del dosaggio. Svantaggi molto rara, perché uno può avere una sensibilità alla mucosa orale. Come tutte le cose, statisticamente parlando, su mille soggetti, ci può essere quello che dice a me, mi dà fastidio. Però in genere è molto ben tollerata. Senti sempre bene, Giorgio? Sì, sì, vai, vai. E da qui si vede meglio, ve l'ho fatto vedere prima. Guardate se si vede bene qui. Eccolo. La bionispronità comparata, vedete? Guardate. Questa è l'intraurale spray colloidale. E anche sublinguale. Vedete che, come dicevo prima, il 90%. Il confronto è molto chiaro. Andiamo ai prodotti, subito. Andiamo al pratico. Self food. Allora, Giorgio ha parlato abbondantemente del self food. Quindi ha fatto una presentazione che da tempo non sentivo, tra l'altro. Perché, cioè, ho detto, va bene. Allora, le vitamine sono indispensabili. Certo, perché, guardate, se avete fatto la scuola, alcuni di voi avete fatto la scuola di formazione. Quando nella prima lezione ho spiegato le basi della disfunzione mitocondriale, ripeto sempre, in tutti i cicli biochimici dell'energia cellulare, tutte queste reazioni hanno dei cofattori che sono, di fatto, soprattutto le vitamine idrosolubili. Proprio quelle che sui banchi di scuola ci facevano a parte, le B1, B2, B3. Ma dicci subito a cosa servono. Tutta questa biochimica fatta a compartimenti e spesso non applicata. Invece, di fatto, sono i cofattori essenziali degli enzimi che partecipano al metabolismo energetico cellulare. Quindi il B1, Tiamina, eccetera, eccetera. Il FAD, che non è altro che la B2. Il NAD, che è la B3. La B5 è l'acido pantotenico, che tra l'altro fa parte del famoso acetilcoenzima A. Ecco, è stato per dirne una. Ma tante. La vitamina B9 e B12, adesso vedremo un attimino. Quindi, allora, dice, ma abbiamo carenza di vitamine? Ma certo che ce l'abbiamo, perché soprattutto è il problema cellulare. Una volta, quando i pazienti, o anche i colleghi, a volte mi interpellano, mi dicono, senti, ma se dovessi fare un dosaggio di una vitamina B? E io dico sempre, guarda, hai un problema. Perché? Perché il sangue non è detto che sia, diciamo, il territorio, il distretto biologico che ti dà una dimensione del problema. Dovresti minunarlo dentro la cellula. Cioè, è questo il problema. Ma come? Perché non è già biodisponibile? Sì, ma questo significa che è nel torrente circolatorio. Ma dovrebbe essere bioaccessibile. Cioè, passare le membrane, entrare dentro. E quello è il problema molto spesso. Cioè, un problema che, per esempio, è stato importantissimo per il rivoluto omocisteina, per la B9 e la B12. Che poi si è scoperto le forme attive importanti, metilate, che riescono ad entrare. Quindi, capito? Molto, molto importante questo aspetto. Quindi, non è detto che... Vediamo quanti casi... Ah, a proposito. Questi slide io le metto a disposizione in formato PDF protetto per tutti voi, eh. Quindi, Giorgio, l'avvisi subito. Giorgio Antonio, vi avviso. Vi manderò il PDF di questi slide. Ecco perché potete vedere questa lista delle ipovitaminose. Grazie. Molto sottovalutato questo problema. Questo è un slide che ho preso proprio nelle presentazioni che facevamo con Giorgio. E l'ho riguardata. È proprio così. È sottovalutata in tutti i sensi. Ma non solo per le idrosolubili, ma anche per le vitamine liposolubili. parliamo per la vitamina D. Perdite, mi è la seconda cottura. Dice, mi fanno ridere, Vito. Prendi questo. A volte in queste trasmissioni televisive mi scappa da ridere. Alcuni personaggi, meno male, sono spariti da queste televisioni. Meno male. Qualche uno, forse, boh, non lo so che fine abbia fatto, ma non se ne poteva più. Che ci parlava sempre di calorie, di vitamine. Eh, mangiate questo. Non avete bisogno di questo. Ma come no? Cioè, ma te pensi veramente che io prendendo tutte... ho l'integrazione giusta, ma nemmeno per il sogno. Cioè, nemmeno per il sogno. Perché magari fa bisogno proprio per persona, a persona. Non lo puoi coprire solo con gli alimenti. Non c'è niente da fare. Questo è assodato. È inutile che ancora continuano a scrivermi. Cioè, vari articoli. Ma basta un'alimentazione sana, eccetera, eccetera. Mediterranea. Questa solita palla, scusatemi se ve lo dico, che non è nemmeno una dieta, tra l'altro uno stile di vita giusto, lo rispettiamo. Ma vi dite la verità. Cioè, che ci vogliono intanto dei metodi di struttura giusti per farli arrivare. E poi, non è detto assolutamente che già passino dentro il torretto circolatorio o gli alimenti. Allora, guardate questa formulazione. È completa. Formulata. Non ci sono le forme bioattive delle vitamine. Quindi, questa p come si dà? Spray. Spray sublinguale. Quante se ne deve dare di questa p? Guardate, intanto è un confronto. Guardate, c'è il famoso ORAC, no? Sapete che è il discorso di confrontare a livello, diciamo, la capacità antiossidante. Ci sono altri test, ora, per carità. Ma vedete che è importantissimo anche il contributo netto che dà il multivitaminico rispetto a tutti gli altri. Per esempio, la fragola, considerata, le fragole naturalmente, quelle di bosco, prese magari nei boschi del nord, perché qui in Italia, scordatevi queste qui, che sembrano ovviamente dei meloni, le prugne, per carità, accetto, l'arancia, tutte le cose però andrebbero colte direttamente, biologiche, prese, attenzione, perché vi dico, non vi dico, sono stato operando in un laboratorio di controllo, ovviamente, di ricerca sulle tossine alimentari, non vi voglio dire cosa non c'è dentro su quelle, comunque, questo sono altri discorsi. Allora, eccolo qua. Questo è un prodotto che giustamente dice, come lo consigli? dipende dalla situazione, perché il professionista deve essere sempre in grado di consigliarlo in virtù del soggetto, e questa è la nostra forza, lì che noi facciamo la differenza, perché se non lo fa il par da sé, no, il professionista deve essere preparato, aggiornato, e pronto subito a dire al paziente, devi fare così con autorità, consapevolezza e preparazione, e essere anche pronto a eventuali domande, perché oggi il paziente è preparato, va su internet, pensa di essere aggiornato, prende le grandissime tronate, almeno con me, perché la prima cosa che gli faccio gli domani, che fonte ha questa tua notizia? E questi mi guardano, come? Che fonte? Una mi disse, quale fonte? Non la fonte, la fonte di Sant'Anna di Vinadio, la fonte bibliografica, ah, ah, la fonte quella, sì, certo, dice, ma, ho letto su, dunque, sul web, cioè, sul web, ma sul web ci possono scrivere tutti, se io e Giorgio stasera ci mettiamo di notte, si diventa che il pompelmo cura il tumore alla vescica, domattina se esce, si pubblica la vescica, oh, l'hanno detto loro, bravi, eh, senza fondamento, quindi ci vuole pubblicazioni serie anche, e sapere le leggere, allora, integrazione del sano, tutti gli stati carenziali che vanno appurati, ora io non voglio entrare nella pubblicità di, però bisogna avere anche mezzi biochimici o biofisici, per poter dire se la tua cellula è in uno stato carenziale, deficit alimentari patologici, e ce ne sono, dieta estreme, dico sempre io, affidatevi a professionisti bravi, nutrizionisti bravi, ce ne sono, oggi tutti fanno nutrizione, tutti, e io dico sempre, quando faccio i corsi anche ai master, ricordatevi cari colleghi, che non è un buon nutrizionista, che non sa la biochimica cellulare, io quando mi dico sono nutrizionista, cosa hai fatto, che percorso hai fatto, domando subito, questo, 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 eh, gli faccio una domanda chiave, e vedo subito se la persona è preparata, se non sai la biochimica di base, non puoi essere, non ti puoi fregiare del titolo, a mio parere, la devi sapere, quella di base, che ti serve per capire i meccanismi, sennò non potrai gestire il tuo paziente al meglio, signori, so che sto creando gli anticorpi, eh, lo so, ma è così, non c'è niente da fare, perché la scienza limitazione è la sorella proprio, anzi, direi che è la figlia, scusate, non figlia, anzi, più bella, della biochimica, applicata, fa sì, cresce, la compagnescenza, certo, allora, eccoci, 3-6 erogazioni una volta al giorno, da trattenere in bocca, ecco, io lascio questo qui, ma certamente possono essere anche di più, quello lo decide ovviamente il collega, voi lo decidete, il medico, il biologo nutrizionista, il farmacista, chi siete, il dietista, lo decideranno nel momento in cui verranno il paziente, e sapranno consigliare o prescriverle nel modo giusto, parliamo alla vitamina C, come dicevo prima, altro problema, se la guardate, l'acido dell'ascorbio, si comporta come un potente riducente, quindi nei meccanismi di redox, che significa, dona prontamente elettroni alle molette che lo ricevono, cedendo elettroni, l'acido dell'ascorbio, si trasforma una forma ossidata, l'acido deidroascorbio, o DH, attenzione, l'hanno siglato come il famoso DHA degli Omega 3, ma è una cosa ben diversa questa, lo trovate ugualmente siglato, perché dall'inglese, no, diidroascorbato, però non è, non confondere con EPA e DHA degli Omega 3, in altre parole, la vitamina C si sacrifica, ossidandosi per prevenire l'ossidazione di altre moleque, ma lei abita al posto suo, tipo proteine, grassi, arborati, e le forme, guardate, acidoascorbico, guardate la similitudine col glucosio, tant'è vero che possono competere con gli stessi recettori, ecco la famosa ancazione antidiabetica, attenzione, della vitamina C, l'acido semideidroascorbico, radicale libero, guardate, c'è un radicale, lo dice, oh ma allora c'è dei radicali, certo è ligeria, però vanno rimossi, fortunatamente sono anche abbastanza poco reattivi, quelli di acidoascorbico, fortunatamente, poi vedremo, e poi c'è l'acido di idroascorbico, allora vedete qui il ciclo, messo anche questo, in modo che guardate, guardate, agnoneascorbato, vedremo si passa, spetta di idrogeno, elettroni, guardate, radicaleascorbile, idroascorbato, ecco qui, questo, come dicevo, fortunatamente un radicale libero, con reattività ridotta, questo acido semideidroascorbico, attenzione, può suonire poi, due destini diversi, cioè, essere ulteriormente ossidato, ci tengono elettroni, trasformandosi in acido e DHA, che è questo, oppure, siccome è stabile per pochi minuti, diciamo, allora come si fa, allora lo vediamo anche, dopo di quali viene irreversibilmente, idrolizzato in acido, chetogluconico, di chetogluconico, guardate, anche analoghi a carboidrati, no, di fatto, in alternativa può essere invece ridotto, ora qui non si vede bene, scusate, la slide, la voglio mettere, scusate, eccoci, che possa leggere, in un semi di, idrascorbato, acidascorbico, in questo caso, la riduzione del DHA, g, rigenera la vitamina G, facendo la quesita, proprietaria, anzi, quindi va rigenerato, cioè, uno dice, come lo rigenero, come lo rigenero, scusatemi, eccoci, davanti, lo rigenero, ho voluto far vedere, perché volevo leggere, ecco, guardate come si rigenera, in questa maniera, vedete, questa è quella lì, eccolo, perché, quando si parla, questa prima slide, ci ha dato proprio, presa in, in regalo, un cesser, al mio caro amico, amico anche di, ovviamente, di, di Giorgio, il professore, che ha citato più volte, stasera, Eugenio Luigi Iorio, e che mi dice sempre, guardate, quanti corsi, io lo considero il mio maestro, dell'ossidazione, veramente, lui a me va bene, io gli ho dato, forse, metti, erano un terzetto, favoloso, anche il professore, Santoni, vedete qui, guardate, questi sono i radicali perossilici, che arrivano dai grassi, oppure ossidati, vitamina E, lo scambia, con un tocco perire, ma vedete qua, eccoci il gioco, ha scorbato, lo scambio, io lo prendo da te, però, meno male, che c'è il GSH, me lo fa rigenerare, lo riscambio con l'acido lipoico, attenzione, il GSH viene pure rigenerato, da ubichinolo, ubichinolo, con enzima Q10, di cui parleremo la prossima volta, e il tutto, vedete, chi è che rifornisce anche il NAC, è l'acetilcisteina, e qui tutti quelli che sono i supporti, vedete, il NAD ridotto, il NAD ridotto, il succinato, tutta la roba che viene dal cielo di Krebs, e questi sono i famosi, la vitamina B3, tra l'altro, in forma bioattiva, eccoli qua, quindi vedete che, è un circolo che deve essere un network ben preciso, quando mi dice, come fai a sapere io? Come fai a saperlo? C'è molto semplice, intanto, infortunatamente, se dai la scorbato e basta, vi ho detto, il possibile, diciamo, a scorbile, è poco reattivo, meno male, intanto per quello, a meno non si subito, c'è il dosaggio, attenzione, anche lì, ma se dai anche un mix, devi guardare, come diceva sempre Eugenio, i rapporti molecolari, molari, dai, milligrammi, una mole di, quanti milligrammi gli dai di vitamina E? Dice, 100 milligrammi, bene, vi addividi per il peso molecolare, trovi le moli, le stesse moli saranno dell'ascorbato, lo scambio 1 a 1, saranno dell'acido lipoico, saranno del CSH, basta poi moltiplicarli per il peso molecolare, avere i milligrammi corrispondenti, questo è essere il rapporto molare ottimale, una volta non mi disse, chi ce ne dice a noi? Deve andare da una persona competente, capito, perché se no, come ho detto una volta Eugenio, molte formulazioni in commercio, ben famose, pensate, sono squilibrate completamente, da un punto di vista pazzesco, allora guardate, siccome può cedere idrogeno, così come elettroni, una reazione reversibile, per esempio nelle idrossilazioni, diventa molto importante, quale sono le idrossilazioni, quindi la formazione di gruppi OH, accidenti per esempio, una è la sintesi del collagene, dei tessuti, cioè la vitamina C è fondamentale, la prolina idrossilasi, dalla prolina, la sintesi degli steroidi, le ghiandole surrenali, idrossilazioni, pensate il gioco che c'ha anche, ma poi trasformazione da dopamina in noradrenalina, nella sintesi anche della serotonina, è coinvolta la vitamina C, per dire sicuramente alcuni aspetti, quanto deve essere l'assunzione? Dipende, minimo 75-80 di base, l'anno alzata negli anni, ma certo se fumi di di città, sei inquinato, ma anche più di 100-120, quando dicesse io fuma, non li fuma con altre sigarette, addio, c'è niente da fare, il danno è ben superiore a quello che puoi tamponare, c'è la puoi limitare, ma la puoi tamponare, li devi smettere, punto e basta, stai generando una valanga di radicali, una valanga. L'assorbimento della vitamina C è dose dipendente, quello che dicevo prima, ci sono questi, diciamo, a livello dell'epiterio intestinale, abbiamo proprio il, è un trasporto, diciamo il trasportatore dell'acido ascorbico, sono proprio chiamati, guardate, SVCT1, che praticamente sono i trasportatori di tipo 1, vitamina C, sodio dipendenti, che sono la membrana apicale proprio delle cellule intestinali, degli entelociti. si è visto, pensate, già dando dai 30 ai 180 mg, di una dose media di supporto giornaliero, ne viene assorbito, a volte non si arriva all'80%, e studi hanno visto, che i livelli di trasportatore, sono sensibili proprio alle concentrazioni dell'acido ascorbico, diminuiscono in presenza allevate concentrazioni, insomma, un lavoro uscito sull'American Journal, mi ricordo, Clinical Nutrition, che è un po' la Bibbia di giornale di nutrizione clinica, una volta mi avevo impresso, perché dando mille milligrammi di vitamina C, ne passava mediamente non più di 250, un lavoro fatto sui nordamericani, comunque, vedete, già superiore ai 500, generalmente non passa più del 50%, 30-50%, quindi, cosa vuol dire questo? È meglio darle in modo modulato, in più momenti della giornata, o gli dai una super record, a un certo dosaggio, naturalmente, e allora vedete, quante se ne perde, durante la cultura, abbiamo messo anche questa slide, affinché possiate vedere con calma, dopo le dispense, cosa comporta la parezza? Guardate, c'è il mio amico, Alejo Santoni, parla sempre di scorbuto subclinico, la gente pensa di avere vitamina C sufficiente, in base all'attività che fa, lo stile di vita che fa, ma di fatto non ce l'ha, quindi di fatto, vedete poi, per non parlare di, scarza per esempio, se vi dico io, che una volta hanno fatto un'indagine sui pompelmi, gli affa, quelli famosi, che vengono da Israele, e hanno visto che dopo una settimana, rispetto al contenuto iniziale preso dall'albero, ne rimaneva il 10% di vitamina C, dopo una settimana, ma è logico questo qui, poi senza per tale, delle farmaci, che provano una deflezione dell'acido ascorbio, chi più ne ha, più ne metta, quindi vedete, sono tante le variabili, e allora invece i sintomi, pelle, secca, scorbuto subclinico, inghiafragi, difficoltà a guarire, per forza perché non fai la sintesi proprio del tessuto di parazione, lividi dovuti alle emorragie, sanguinamento delle gengive, che è tipo anche lo scorbuto, dolore articolare, debolezza e sonnolenza, eccolo qua, mi piaceva questa figura, e ve l'ho messa, che dava proprio l'idea, vedete le petecchie anche, per le emorragie diffuse, a livello anche degli arti inferiori, e gli arti comunque, vedete, scorbuto pallore, ecco, occhi infossati, eccetera, eccetera, guardate, quanti altri, se l'ho preso da una testa americana, guardate, quante altre situazioni, ci sono ovviamente, guardiamo, metterle lo scuola, è tutto ciò che abbiamo detto, però sta figurina mi piaceva, ha detto, se devo dargli, ai colleghi discenti, mi piaceva anche, dargli questa visione grafica, della situazione, perché è importante, perché anche, indipendentemente, dal fabbisogno di essere detto, la supplementazione di vitamina C, è efficace, ma perché il diabete, ma avete visto la struttura, per i danni anche al diabete, le famose glitazioni, compete, ci compete proprio, a livello recettoriale, con il diabete, con il sudato e con il glucosio, quindi è evidente questa azione, pensate, di almeno il 10% degli studi, ridurre del 25% complicanze cardiache, cioè studi fatti negli anni, questi vi assodati, però se sentite la gente, come dice sempre il ben mio Enzo, anche quando siamo venuti l'ultima volta a Torino insieme, c'era anche Giorgio, che ha organizzato un incontro a Torino, c'era dall'altro anche l'amico Bartolomeo, cioè se sentite, allora, ma vabbè, la secola è stata di vitamina C, il vitamina C è un nutraceutico importante, cioè, finché gli dai 10-20 mg, fai il suo ruolo vitaminico, oltre un nutraceutico, oltre i 100 mg diventa un nutraceutico di fatto, oltre il fabbisogno è un nutraceutico, quindi può essere usato per la prevenzione e il supporto in patologia, questo è il ruolo del nutraceutico, quindi 20, poi abbassare i 5 mm, non è un granché, conosco roba che abbassa molto di più, come l'aglio per esempio, però buttalo via, 5 mm di mercurio significativi, pensate che a volte sui 3 mm di mercurio, che sono veramente poca roba, c'è un iperteso di 100, mi passa a 97, ditemi voi, ci creano un antipertensivo, forse lo so se cari colleghi, questa cosa ci sarà degli istruzionati, fai vedere anche gli amici medici di base, ma guarda, avete letto bene sto lavoro? Cioè, significativo abbassamento di depressione, 3, 3 mm, e qui si ti guarda, fa come 3 mm, eh sì, dal 93 passo al 90, è risolto il problema? Cioè io, scusami, dove si prende un antipertensivo a vita, che è già una cosa sbagliatissima, mi aspetto che dal 93 mi passi al 80 almeno, cioè, ma almeno 85, 84, ma non certamente al 90, vabbè, però, questa è la famosa medicina matematica, con cui tante belle riviste si sciacquano la bocca, e soprattutto con il grande utilizzo, le industrie della pre-pharma, che ci gode, dicevo, ma è significativo, è significativo, vabbè, prenditelo tu, e poi sembra addirittura, pensate, fondamentale, come se io ho un fondo, del supporto immunitario, non c'è niente a te che veniva a dire, ah, non serve per di qua, no, serve invece, come se serve, forse non da sola, ma in congiunzione, ha un ruolo immunitario ben importante, e poi pensate, ottimi studi anche sulla capacità cognitive, sugli anziani, ma anche come ristoratore a livello psicofisico, di studenti e lavoratori, e allora, ecco la qua, la soluzione, chiaramente, non siamo qui ad raccontarci la verità, spray intraorale, di vitamina C, eccolo qua, in tutti i casi di carenza, in maggiore richiesta, o predisposizione alle infezioni, anche strani di convalescenza, stress sia fisico che psichico, scudo antiossidante, lo stesso ossidativo, nei casi di idosticazione accusa, come il rigenerante, quando c'è un bombardamento, ovviamente radicalico, quante se ne prende, da 4 a 6 reazioni intraorali, o sublimuali anche, 2, 3, 4, quello dipende ovviamente dal ciclo, lontano dai pasti, trattenere in bocca un pochettino, per favorire l'assorbimento ottimale, questo è molto importante, questo trattenimento in bocca, infatti se per almeno 30 secondi, lasciano un bocca per assorbire, arriviamo a un altro bel crocevia, davvero, questo qui, chi mi conosce negli anni, è stato uno dei cavalli battaglia, anche con gli incontri con Giorgio, fin dal 2010, ormai, sono più di 14-15 anni, che parliamo sempre di omocisteina, del radicale metile, ormai siamo veramente, guardate, cioè, con una cosa, abbiamo fatto tanti percorsi, anch'io personalmente, tantissime lezioni, in tante situazioni, essendo universitarie, allora, il radicale, è, tanti già Giorgio, di anzi, ha parlato della metilazione epigenetica, certo, se ne è parlato, per esempio, l'anno scorso, alla scuola di formazione, nella scorsa lezione, ho dedicato, proprio una lezione specifica, su questo punto, ma chi è il grande metilante, si chiama Samen, sapete cos'è il Samen, non è altro che la forma bioattiva, della metionina, aminoacido essenziale, che diventa, tramite i passaggi, la S-L-Metionina, bene, scoperto come, soprattutto, usato anche come detossipierante epatico, la presenza dello zolfo, molto importante, cruciale, cruciale, ho scritto io sotto, donatore, vedete, di gruppi metili, cruciale donatore, una fornace di gruppi metili, e infatti, guardate, vedete dov'è? Questa è la metionina, ATP, la reazione, guardate, eccola, il gruppo attivo, eccolo qua, è questo, lo vedete? E' lui, e lui andrà a metilare, il Samen lo cede, o Adomet, o Samir farmacologico, il famoso Samir, allora a questo punto i miei colleghi mi diranno, Samir, ma mi ricorda un antidepressivo, esatto, antidepressivo dai 300 ai 500 milligrammi, assolutamente sì, ora vediamo perché, perché lui, sparando tutti questi, questi gruppi metili, c'è coinvolto una valanga di reazioni, che voi non avete, cioè, 90 reazioni metaboliche, guardate, io che ho fatto, i corsi di laurea, due corsi di specializzazione, specializzazione in biochimica medica, oh, ma avessero detto, ne avessero detto, in cinque anni di specializzazione, che questo qui è il donatore fondamentale, i gruppi metilici, no, ma ancora, cioè dopo, da solo, uno si rende conto i meccanismi, no? Cioè, venirete conto a volte quante, gap ci sono a livello della formazione universitaria, eccoci, cofattore la metilazione, depurazione, donatore, attività antidepressiva, accettata, su, guardate quante azioni, che è un di quattro, impressionante, allora, sintesi delle poliammine, aumento del glutatione, regola il bioritmo sonno-veglia, inibisce l'entrata del colesterolo ossidato nel macrofago, per farlo diventare macrofago attivato M1, biosintesi del nitrossido, disfunzione rettile, biosintesi del mio biogene, è lì l'azione antidepressiva, non l'adrenalina, potenzia l'azione della levodopa, certo, per forza, quindi migliora anche il supporto alla terapia, al Parkinson, ma poi guardate questa, produce la viperin, il virus protein inhibitor, cioè quindi è un'azione antivirale accettata del same, guardate quante spaccettature, tra l'altro questo amministratore di glutatione, rapporta anche a una stimolazione, poi indiretta, dei recettori NMDA del glutatone ammato, amminoacido eccitatorio, quindi pensate a quante azioni, ma in questo caso modulare, una velocità modulazione, ma poi guardate qua, ecco, metionina, same che ha tutti questi, qui c'è il 90, pensate da qui nasce anche la creatina, la creatina si forma dal same, cioè, vedete conto, cioè, quello che è la base muscolare, no, creatina, creatina in fosfochinasi, creatina in fosfato, nasce dal same la creatina, dall'acido guanidina acetico, per metilazione, ma poi si forma questo intermedio, che è una S-adenosina, omocisteina, perde la adenosina, e si forma l'omocisteina, e lì, si apre un capitolo, che è stato, oggi ci vorrebbe più due, tre ore, l'omocisteina va smaltita, come la smaltisci, col B12, colato, o con la betaina, che deve rimetilare, oppure con la B6, per andare a glutatione, passando attraverso l'N-acetilcisteina, quindi capite? Guardate che bellezza questa B, per smaltire questo metabolito tossico, o con un certo dosaggio, ci vuole una triade di vitamine, io dico sempre la tabellina, che è ovviamente, 9, 6, 9 e 12, eccole qua, tabellina del 3 crescente, 6, pridossale, che è la transulfurazione, 9, che è il folato B9, B12, che sono accoppiate, tant'è vero che i sintomi carenziali, queste due, sono analoghi, sono l'anemia megaloblastica, l'anemia perniciosa, i grossi globuli rossi, e l'anemia di, la betaina, una via intraepatica, che è tutta la colina, per formare, per rimetilare, la betaina, che è la simetiglicina, che tra l'altro è presente nel multivitamins, tutte queste sono presenti nel multivitamins, attenzione, tutte queste forme attive, però naturalmente, mi dicano sempre, allora basta, dipende dai valori di omocisteina, dipende da quei valori lì, guardate, cioè oltre un certo limite, occorre una terapia, diciamo vitaminica, in questo caso, quindi in ultraceutica, più importante, quindi se i valori sono moderati, fino a 15, massimo 20, ci puoi lavorare, oltre, c'è bisogno, e soprattutto in virtù, del fatto che ci sia magari, un deficit enzimatico, nella limiterazione, o peggio ancora, addirittura, nella transorculazione, quindi è sempre dipendente, da quello che si deve dire, il dosaggio, e dipende dalla situazione clinica, che abbiamo davanti, infatti vedete, ecco il complesso per prevenzione, B12, vedete metilcobalamina, metiltetraidrofolato, THF, B6, trimetiglicina o betaina, o SAME, questo è, diciamo, il pentagramma proprio, di quello che può essere l'antiomocisteina, ed ecco, il SAME, diciamo, me lo dai, ma il SAME, guardate, a volte mi scriva le persone, e mi dicono, sento, ho saputo che il SAME, allora, intanto, la formulazione colloidale, sublinguale, permette, pensate, un dosaggio, cioè, dare queste 25 gocce, è come dare almeno 300 mg di SAME, voi date 75 mg, cioè, che ne basta un quarto della dose di base, per avere un'azione antidepressiva, vediamo solo queste, alla gente mi chiede, dice, mi scrivono, e mi fanno, posso io prendere questa, scrivono queste mail, cari colleghi, non rispondete mai, dite solo, che per mail, non si possa dare informazioni, dettagliate, se non si conosce il paziente, a meno, e non siano, ovviamente, notizie tranquille, infatti, rio sempre, scusi, signore, a mappe, che cosa vuole prendere, perché il comune si risponde, dice, no, io la vorrei prendere, prenderei per una modellata di queste depressione, ho detto, eh no, eh no, eh no, ho detto, scusi, lei mi fa parlare col suo medico, cioè, perché l'estero sicuramente, non esiste proprio, l'ho detto, cioè, però, sappiate che, in tutto di questo, ha anche questo tipo di azione, ma soprattutto l'azione metilante, e quindi, vedete come, possiamo essere disintossicante, per le fattorie, fatevi da dosaggi, che vedi, sono anche più bassi, cioè, 25 gocce, sono 75 miligrammi, ma io la posso dare a dosaggi più bassi, patologie epatiche, l'erife omocisterina, è mia già vista, depressione e patologie analoghe, sotto stretto controllo medico, processi degenerativi, perché avete visto in quante situazioni è coinvolto, anche di degenerazione metabolica, e patologie cutanei, allora, ecco, le va, vedete, vedete, addirittura, una delle cose più importanti, vedete, io ho sottolineato questo, perché io, chi mi conosce, quando faccio queste presentazioni, metto anche, nelle slide, a modo di dispensa, affinché possano essere lette, dopo, cioè, ciò che dico, l'ho messo per iscritto, e vedete, che c'è anche un'azione drenante, esercitata sulla matrice extracellulare, da parte del same, quindi, molto importante, questo, vedete, le variazioni, che può avere questo, e quante se ne prende, guardate, da 5 a 12 gocce, due volte al giorno, a seconda della situazione, ricordandoci, ogni goccia, sono 3 mg, biodisponibili, al 95%, quindi, questo significa, avere una formulazione, ottimale di esame, è importante, quindi, adattarlo alla sigla, situazione, del paziente, sotto la lingua, si spettano, 30 secondi almeno, per il primo deglutire, perché in questa maniera, si favorisce, l'assorbimento sublinguale, attraverso, appunto, le vene d'effle, diciamo, delle ipoglosse, della lingua, per arrivare poi alla famosa, come si è detto prima, vena, hava superiore, che poi è tributaria del cuore, ovviamente, ecco il protocollo metilante, questo lo facciamo, mi è piaciuto, questo, voglio creare un po', cioè, same, multivitamins, vitamina C, e food, il metilante pianetico, insomma, ecco, diciamo, uno che in questa maniera, è chiaro che, come ho detto, il multivitamins, in funzione anche di quello, però questo vi garantisce, questo status metilante, ottimale, che lo sapete, tra l'altro, alcuni lo sapranno senz'altro, che nel discorso, anche accennava Giorgio, nell'epigenetica, le metilazioni, c'è anche la protezione, del genoma proprio, la struttura del genoma, molto importante. Arriviamo al silicio, io guardo sempre l'orologio, perché voglio sempre finire, in tempo, in modo anche di dare spazio, scusatemi, guardo sempre, perfetto, sono in ottimo tempo, silicio, elementi importanti, se ne parla, a poco, ne ha parlato, ne ha parlato, si parla sempre il calcio, la vitamina D, si incerto, però di fatto guarda, il silicio, è fondamentale, la matricetta cellulare, c'è veramente, un elemento, inorganico, pensate proprio, il costituente dei sassi, i sassi o due, il biostro di silicio, amorfo naturalmente, per non andare poi, a quello super cristallino, il quarzo, vedete, le differenze clamorose, no? Beh, abbiamo gli esempi, ancora più clamorosi, abbiamo il diamante, che è il cipuro, tetra, e dico perfetto, abbiamo il carbococco, che è sempre lì, ma che è credibilmente amorfo, o la graffita addirittura, che sono dei carboni, che è esagonale, quindi vedete, le forme allotropiche degli elementi, e il silicio, è indispensabile, è veramente importante, per la struttura del connettivo, e della matrice, fondamentale, guardate, quante azioni, allora, fattore regolatorio, nelle prime fasi del processo, di calcificazione dell'osso, perché permette, la fissazione del calcio, da parte delle ossa, svolgere un ruolo determinante, vedremo nell'osteofilosi, interviene nella sintesi del collageno, insieme alla vitamina C, a braccio, e come molecola organica, gluconica, io come un elemento inorganico, e forma i proteoglicani, collage, struttura della matrice extracellulare, i glucosaminoglicani, gag, migliora l'attività degli osteoblasti, a scapito degli osteoclasti, gli osteoclasti, sono i macropagi del tessuto osseo, che se lo mangiano, che si attivano guarda caso, quando c'è poi la post-menopausa, quindi, uno studio, beh, recente, e alcuni anni fa, ha evidenziato proprio, che la dieta povera di silicio, il tessuto dell'uomo, ma soprattutto, la testa, inerare l'osso, cioè fatto con le mocche, uno studio fatto, su 53 donne, mi vedete, non è un gran numero, no, avete ragione, ma se un trias, fatto bene, controllato, a volte più, più studi di questo tipo, fanno una prova, no? donne tutte con l'osteoporosi selezionate, la supplementazione di silicio, aumentato per la densità ossea del femore, preso come indice, ovviamente, di marcatori di osteoporosi, e poi esistono numerosi studi, che dimostrano come il silicio, soprattutto la donna, cala con l'età, l'assolumento del silicio, cala a modo clamoroso, vi ripeto, è un costituente, inferiore, ma importante, dell'osso, guardate questo bellissimo, l'arboro, su Junior, Albon e Mineral Resierce, di alcuni anni fa, però importantissimo, l'ho messo apposta, perché fu veramente messo in correlazione, proprio, l'intake di silicio, come dicevo prima, sia nelle donne, che imprimono pausa, negli uomini, attraverso il framingo, off spring, cotter study, che ha dimostrato veramente, l'importanza della supplementazione del silicio, allora dice, accidenti, ma non è importante, come lo diamo? è lì che si ride, così, perché? perché io, con Giorgio, non mi ricordo, c'è, anni fa, una famosa professoressa, che è un po' la madre, delle osteoporosi, a certe, certe, fatture, però, diciamo, perdere, non voglio commentare questo, non commento, perché sennò, rischio qualche denuncia, perché poi più di tanto, ma insomma, sai, allora, per 10 minuti, per guardare un'analisi, più da 350 euro, mi capite voi, che io, su questo, ho molto, molto da dubitare, su tante cose, su, per me, fanno già un personaggio, comunque, lasciamo stare, non voglio, lo dire, perché, vabbè, allora, Silice con lui, tale, e aveva fatto uno studio, perché aveva ammesso, insieme a una ditta, hanno scoperto il Silice, tanti anni, ah, portano, fanno un congresso a Firenze, sulla, lascio 8, Silice, ma, ma, c'è il segnale basso, non so, se è il mio, che ti sento poco bene, magari, avvicinati, ho il massimo segnale, però io, avvicinati un pochettino, a microfono, sì, sì, ma, ma, l'immagine si vede bene? Ora sì, sì, vai, ma, forse, votati sei microfono, votati un pochettino, sì, va bene, aspetta, eh, però, ecco, avvio il video, eccoci, va bene, si vede, però, però adesso, sai, ritorna, dove prima, votati sei microfono, però, eh, può darsi, Giorgio, aspetta, non levo, no, no, tutto a posto, vai, vai, sì, sì, no, tramite, tramite uscendo, mi è ricominciato, ecco, del silicio, cosa è successo? Hanno fatto questo congresso a Firenze, sull'acido orto silicico, cosa è successo? E quindi ci hanno investito anche diversi soldi, eh, attenzione, c'è questa formulazione, ma io ero lì che aspettavo, aspettavo, e dicevo, vediamo dove vanno a finire questi qui, fanno gli studi, e dopo due anni, circa, un buco nell'acqua, un buco nell'acqua, come mai un buco nell'acqua? Sapete qual è il grosso problema? E sono convinto, colleghi, tutti voi l'avete capito subito, la biodisponibilità di affligati, la biodisponibilità, invece il silicio deve essere colloidale nanosilicio, ovvero guardate, ultracolloidale particelle talmente piccole, 10-20 milionesimi di millimetro, 10-20 nanometri, o nanometri, da essere facilmente assimilabili, perché vi sviluppano una superficie, a livello tessutale, di ben 200 metri quadrati per grammo di prodotto, una superficie attiva di assorbimento, e allora vedete, questa struttura, il nanosilicio, gli permette di entrare negli interstizi cellulari, il debole legame molecolare, ho scritto, poi l'ho messo, caratteristica della forma colloidale, che mi conferisce la proprietà di reagire istaneamente, cosa? I suoi reattori naturali, presenti a livello che sono l'idrogeno e l'ossigeno, rendendo l'abito d'acqua, e favorendo quindi l'incorporazione cellulare. Quindi vedete, questa struttura ultracolloidale, è possibile la generazione di un'attività di superficie veramente basta all'interno della cellula, che ne permette ovviamente la famosa, non direi solo biodisponibilità, attenzione, quello è l'assorbimento, si parla di bioaccessibilità, nelle cellule, nel tessuto, bioaccessibile proprio. e allora, stimola gli osteoblasti, l'allastina, rinforza le ossa, tutte le strutture creatiniche, chiaramente, ruolo protettivo dell'arteria, ma come? uno dice, ma come il silicio delle arterie? Sì, signori, esatto, cioè conferisce elasticità alla matrice, nel sottoendotelio, e quindi a livello basale abbiamo un'elasticità maggiore da parte delle arterie, questa è la bellezza, pubblicata, lavori sperimentali pubblicati, accella per forza, perché favorisce la rigenerazione e anche dei famosi proteoblicani, quindi anche delle, diciamo, del tessuto connettivo di rigenerazione, il fabbisogno aumenta nei pazienti con osteoporosi, tratture osse, ritardo di ossificazione, eccolo qua, questa è la formulazione, silicio colloidale, assorbibile, biodisponibile, base di self food diluito, per ottimizzare, allora uno dice, ma scusami, se devo prendere il silicio, cioè già il self food dentro, non mi hai detto che il self food spesso l'ha preso in maniera graduale, infatti, e lo vuole prendere, chi mi iscrive per prendere il silicio, dico sempre, ha già fatto un ciclo di self food? Dice no, mai, eh, facciamo un ciclo preventivo, che tanto si fa anche una bella pulizia di matrice cellulare, sa perché, perché qui è contenuto anche se bene per evitare la famosa crisi di guarigione, no, la di detossificazione tessutale che può colpire alcune persone, che sono che dura pochi giorni, è come dire, è quando si pulisce un filtro, uguale, e quindi, io dico sempre, facciamo uno o due mesi di trattamento di self food e poi si comincia gradualmente con silica, per avere proprio una pulizia di matrice oltre all'effetto, quindi vedete il beneficio all'impiego, supporto dell'ostoperosi in atto, rimilializzazione, riosificazione post frattura, accelerare i guarigioni e lesioni cartilagine o tendine, rinforzare i tessuti caratinosi, prevenzione, come si è detto, anche da terroscasi in congiunzione ovviamente con altri supplementi. Modalità d'uso, 15-20 gocce, un bicchiere d'acqua due o tre volte al giorno a seconda della situazione clinica che decide sempre il professionista esperto chiaramente. Mantenere il risorso qualche secondo nel cavo orale per favorire il solido di assorbimento come si è già detto, più volte. Allora a questo punto c'è un protocollo remineralizzante, silica, vitamina C, perché vitamina C? Per le proline idrossilasi del tessuto connettivo, certo, EPID ne parleremo la prossima volta, fa parte di nutracerotici e fitoterapici, EPK2 è uguale, perché sono messe in celeste già diverse, e EPI, milenarcombe, tutte queste che parleremo la prossima volta, però intanto potete già assegnarvi questo protocollo di remineralizzazione di queste formulazioni. lo zolfo, anche sullo zolfo, guardate, è uno degli elementi fondamentali, lo zolfo è fondamentale, c'è carbonio, idrogeno, azoto, ossigeno, sì, poi abbiamo fosforo, zolfo, perché, evidenti, guardate, un uomo di 70 kg ha almeno un età e mezzo di zolfo dentro, pensate, numerosissime funzioni di tipo strutturale, allora, i famosi gag appena visti della matrice extracellulare, in quanto compone l'eparina, l'anticoagulante naturale nostro, l'insulina, la cisteina, da cui deriva dall'omocisteina, attraverso la transulfurazione si arriva a N-acetilcisteina, N-acetilcisteina, vitamina B6 dipendente, l'acido lipoico stesso, che abbiamo, il glutazione, pensate, in quel circolo si è visto prima antiossidante, il network, che abbiamo visto per la vitamina C, c'è una valanga di zolfo dentro, nel sangue la concentrazione dei tioli, la famosa barriera tiolica, è un mark dell'efficienza di difesa dell'organismo nello stress ossidativo, qual è un ottimo zolfo? Una volta, a Milano, tanti anni fa, vent'anni fa, era proprio con Giorgio, mi ricordo, ho fatto un intervento, c'era anche Eugenio, Eugenio Iorio, e parlai con un bravo medico milanese naturopata, cioè nel senso della visione di medicina naturale, e parlando di dolore articolare, lui mi disse, dice, li vuoi risolvere davvero con gli articolari per i tuoi pazienti, e come fa? Gli dai, dice, un bolo, guarda, una cosa tremenda, mi disse, di zolfo puro da prendere, fa, è una cosa terribile, però quando passa, si disse, ma non ci potrebbe essere una forma migliore, i fiori di zolfo cialdi, cioè che poi è una cosa orribile. Bene, c'è una sostanza, si chiama metilsulfonilmetano, MSN, è la fonte naturale dello zolfo organico, che parteceva alla maggior parte delle azioni biochimiche, fornisce la struttura per la rigenerazione cellulare, questo MSN, meccanismo di azione, importante per la formazione del collagene, i punti disolfurici SS, che consentono la riparazione di tutte le membrane, il ponte disolfurico, in particolare proprio della cartilagine, e poi non ricordiamoci che anche l'MSM, secondo studiante, soprattutto recenti, è una molevola di supporto proprio al sistema immunitario, guardate quante azioni, bio disponibile, in borsite e tendiniti, in artrite, questo fu quello che mi disse il medico, diciamo, di medicina naturale di Milano, mi disse, guarda, risolverai con i tuoi, cioè, mi fai prendere questi fiori di zolfo e mi disse, ma, lo so che c'è una cosa orribile, ma ne risolverai, poi ho detto, beh, se c'è però l'MSM, scusate, uno fa male a un certo dosaggio, ma lo fa, studiano parlato dell'emicrania, della fibromialgia, dolori muscolari che sono associati molto spesso ovviamente alle situazioni artrose o artritiche, e poi la sindrome del tunnel carpale, anche nel lupus addirittura hanno visto un vantaggio nell'uso dell'MSM, eccolo qua, vedete, sostanza vitale proprio per la MEC, la famosa malattice extracellulare, la base di colante delle cellule, tutto anche di cariazione a livello cellulare, anche perché, sotto forma appunto di punto di sessura, questo MSM arricchisce proprio le proteine fibrose e i gag famosi della MEC, e quindi dandole elasticità alla struttura, come collagene, abbiamo detto, antinfiammatorio, antidolorifiche di conseguenza, potente antrossidante perché sinergizza, ma per forza perché dona azolfo proprio a quel ciclo, a quel network, dove sono tutte molecole solforate alla fine, si tratta di tutte molecole solforate, oltre a non parlare dello stesso glutatione stesso, è figlio della cisteina, abbiamo visto, quindi, il metabolismo dello zolfo inorganico che poi diventa organico, eccolo qua, c'è un prodotto, ovviamente, anche questo qui, in formulazione spray sublinguale, e queste sono le patologie che possiamo applicarlo, anche queste, vedete, erogazioni, 6 volte al giorno, sotto la lingua, 4, 3, dipende sempre dalla situazione che lo decide il professionista, ovviamente, attendere sempre i famosi 30 secondi per devolutire per favorirne il giusto assorbimento. Allora, eccoci, un protocollo nutraceutico in prevenzione osteoporosi e salute osteoarticolare, silica plus, 15-20 gocci, indicativi, chiaramente, MSM, coloritale, lepica, a due di cui parlerò la prossima volta, vitamina C plus, vedete, c'è sempre il discorso della struttura matricionale e soprattutto per la polina, cioè, diciamo, il tessuto connettivale, e poi l'epid, che è la forma, diciamo, l'epinutrix della vitamina D, facilmente biodisponibile. Infiammazioni, questo è simile, ma se guardate bene c'è qualche differenza. Per le infiammazioni nostri articolari, il protocollo, silica, da 20 a 30 gocce per tre volte al giorno, le MSM, l'epi K2 perché c'è la curcuma dentro, attenzione, che non è solo vitamina K2 questa, infatti disse a Giorgio, guarda, lì bisognerebbe un po' chiamarlo diversamente, perché l'epica K2 però c'è la curcuma, ben 600 milligrammi, attenzione, già due K2 fanno oltre un grammo, il che significa azione antifiammatoria conclamata, l'epid, e il mineral comp che è questo estratto di minerali bioattivi estratto di tutti da piante. Arriviamo a un altro argomento, bella coppia questa, carnitina citrin K, questa Garcinia Cambogia è una pianta tipica religione a clima tropicale delle Filippine e dell'Indocina e nella buccia si ricava appunto questo estratto che contiene questo acido idrossicitrico che è stato più semplificato con un acronimo citrin K. Allora, che cos'è questo acido idrossicitrico? Guardate, inizio un'enzima particolare si chiama citrato di asida. Cioè, qual è questo enzima? Allora, noi sappiamo abbiamo ovviamente, sapete, glucosio, piruvato, chi ha seguito le mie lezioni alla scuola, queste cose dovrebbero essere, cioè, le abbiamo operate i silbi di scuola, Diciamo, io lo rivisitate, avete visto, nelle lezioni in altro modo, un pochino più personalizzate, comunque, dal glucosio, perciò, dal famoso discorso del fatto domenica ne parlerò proprio di questo, per il discorso della cellula tumorale, dal glucosio si va al piruvato nell'acidoplasma, la gavigolisi acidoplasmatica, si entra tramite acidico enzima A nel, dal piruvato entra dentro e si tratta la sua omina acidico enzima A, ovviamente, con un trasportatore, e lo stesso enzima A che è la vitamina B5, si unisce all'acido, 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 all'acido di Krebs, nuove lezioni, citrato, c'è mai il citrato, che fine può fare quando hai eccesso? Eh, sapete se ce ne fa? Soprattutto lui, colma acidico enzima A ancora, e guardate chi è l'enzima fondamentale per fare questa operazione, si chiama citrato liasi ATP dipendente, poi dice che cosa fa? Accumula l'acido coenzima A che tramite un altro enzima che l'acido coaculba carbossilasi, acido coenzima A carbossilasi, colma il manolico enzima A che non è altro che il precursore dell'acid, però è colui che serve il nonno che formerà poi gli acidi grassi, acidi grassi, attenzione, di neoformazione, quindi va a formare soprattutto atto i dicetti ma anche la struttura per il colesterolo, attenzione, è dal colestano, quindi vedete dall'acidico A parte il colesterolo e di qua invece parte, quindi è la biosintesi dei lipidi. Allora lo dice come fanno a bloccare tutto questo? Devono avere un inibitore specifico selettivo della famosa citrato di Asia ATP dipendente e chi è questo inibitore? Proprio l'acido idrossicitico contenuto nella buccia della Garzinia Cambogia. Ecco il bene inibitore. Eccolo come faccio appogliare il colesterolo? Allora se c'è la cellula riposa l'acidico incappa dice bene dice cosa fa l'acidico incappa? favorisce la lipolisi, la termogenesi, inibisce la biosintesi di acidi grassi del peccato sono le azioni che ha dimostrato acidi incappa dice bene a questo punto c'è un'azione lipolitica quindi ho i grassi i famosi nefa che sono in circolo sì carino ma se te non gli fai entrare nel mitoconio la fornace gli devi bruciare e chi lo fa tutto questo? La famosa navetta lo shuttle che è la carnitina la circarnitina che fa in denze soprattutto a livello ovviamente del muscolo e gli fa bruciare la famosa beta-ossidazione mitocondiata quindi vedete la carnitina si traccia di produrre energia l'acidica riduce la sensazione di fama in modo naturale perché per forza attivando la lipolisi l'organismo a livello anche ipotalamico ha la sensazione di grassi in circolo quindi ha dato una sensazione di satietà tutto questo favorito anche le componenti del serpude che sono presenti pensate anche la popolazione unita citrincappa carnitina ecco perché anche lì quando la prende sebbene sia un self-food in forma colloidale di ben diluito però io consiglio sempre di fare la famosa pulizia di matrice di base vedete l'azione combinata citrincappa carnitina cioè quindi azioni biologiche vedete funziona in modo specifico aiutando l'organismo a ridurre i lacrimoni dei grassi inibendole la sintesi epatica trasformare il grasso in energia se visto aumentare l'energia metabolica del corpo trasformando l'energia a livello mitocondiale quindi migliora anche la performance di prevenzione cardiovascolare perché favorisce l'ossidazione dei gliceridi poi si è visto importante che il citrincappa nel rapporto con l'esterolo HDL LDL è uno di quelli che può ai pochissimi aumentare in modo significativo quadrati basta poco basterebbe anche 4-5 millimetri miligrammi di cilistro rispetto poi mi direte voi sapete che mi sgolo sempre a dire non è certamente solo il rapporto HDL assolutamente chi mi conosce sa che da anni mi sgolo a dire che è lLDL ossidato ricato ottio lattonato all'omocisteina che attacca l'arteria e che naturalmente molti fanno vecchio da mercante perché ovviamente gli serve non saperlo e non dirlo anche pazienti ma non dirò nemmeno ai medici il bello è questo e poi vedete anche il muscolo cardiaco perché ricordiamoci che il cuore regalava due terzi di energia di grassi bruciati a livello cellulare quindi questa è la formulazione aiuta anche la fondante la struttura biopatica e si va a spostare controllo il peso corporeo sì ma lì sempre sotto le azioni perché se uno pensa che questa sia la pillola magica la formula magica scordato sto parlando a persone ovviamente tutte competenti scienza della nutrizione sicuramente voi sapete che bisogna essere può essere un buon complemento a una serie di misure diciamo nutrizionali dietetiche e di attività fisica in cui si completa il ciclo positivo di miglia soggetti patologie psicologiche poi integrazione soggetti con deficit di carnitina per esempio i vegani soprattutto e anche purtroppo l'AIDS rendimenti quello studio che ha detto prima Giorgio di Pretoria aveva proprio self food e self diet in abbinamento quello studio famoso pubblicato in Sudafrica modalità di impiego vedete 20-25 gocce in un bicchiere d'acqua 2-3 ore dove dice perché ma perché perché si è visto colpo di scena che il ciclo in cappa sarebbe di studio lo dava prima di lo dava prima dei pasti se il pasto era proteico l'acido idrossicidico non viene assorbito diminuisce in modo clamoroso la biodisponibilità cioè non passa a livello intestinale viene a sequestrato e allora bisogna darlo fuori dai pasti questo tra l'altro appunto non è e poi sono gocce da prendere per il via naturale sportivo 25-30 gocce prima della gara usi l'associazione con self food come sul GES a pretoria io stesso quando ho da faricilismo in modo amatoriale poi la trappoli prenderò mi credo che questa combinazione assolutamente faccio proprio pari pari 25 gocce di diet e 10-12 gocce di self food e parto cioè capito quindi questo poi deve essere ovviamente sempre personalizzato però è questo diciamo il protocollo come ho detto è consigliabile non assumerlo in proteine animali nella prima scuola animali e attenzione nel pasto e precede l'assunzione causa ridotto assorbimento del principio cattivo beh di questo parlato giorgio del self food vedete vabbè sono gli studi chi ha seguito la scuola per esempio anche domenica prossima parlerò ovviamente di questo aspetto nel caso della cellula tumorale parlare dopo di questa situazione dell'HIF molto importante sarà una lezione abbastanza complicata ve lo dico subito però affascinante guardate anch'io stesso perché poi quando lo fa queste lezioni perché servono a voi servono anche a me perché so se parla ricerca di nuove stimoli slide studi meccanismi tant'è vero che mi ha fatto un po' ridere perché domenica non mi permetto cari colleghi questa nota ma l'amico Alus Antoni che forse molti conosceranno di voi bravissimo relatore e ha sentito la mia relazione domenica a Borgaro a Torino e mi ha detto dice caro Mauro te a forza di immergerti in questo citoplasma della cellula accertai tutti questi fattori di trascrizione poi alla fine ti accorgerai che l'una l'una l'altro l'altro l'attiva quello ci impazzisci in questa cintura tu impazzirai ci farai come l'astrofisico e cerca la nascita di Big Ben e poi alla fine impazzisce perché si accorge che forse c'era un altro prima o che forse c'era un universo parallele fare questa fine ho detto vabbè qualcuno mi ha già dichiarato scientificamente pazzo ho detto quindi forse non perdo molto però ecco domenica questa lezione sarà un po' cercherò di rendere la fluibile ma un po' tostina parlare in dettaglio della meccanismi della cellula cancellosa beh giorgio ma io voglio dire un altro aspetto che con questo mi sembra sono quasi alla fine perché poi mi sembra rimanga scusate sto guardando sempre il prologio perché voglio essere sempre in orario io perfetto non sono il perfetto orario meno male sono contento allora sapete qual è già detto c'è il solfato e deuterio attivato una formula che sanno solo loro è un brevetto io ho tentato ho tentato ho scritto più volte a comitato scientifico cioè diciamo ovviamente negli Stati Uniti per sapere il meccanismo le ho ancora il mail loro mi hanno risposto ci è andato vicino però mi hanno dato conferma dice è sulla strada sì potrebbe essere sulla strada quello che lei sta pensando comunque una cosa importante è questa cosa è venuto fuori dai meccanismi che uno scienziato si chiama Shepinov una vicina di anni fa ha scoperto una cosa veramente interessante attenzione noi sappiamo che noi abbiamo l'idrogeno le nostre strutture giustamente le nostre strutture gli alimenti fondamentali a livello carbonio ossigeno ossigeno bene l'idrogeno ovviamente sapete ha tre isotopi uno è il trizio lasciamo lo stare il trizio e anche radioattivo l'altro è l'idrogeno normale quindi idrogeno 1 poi c'è l'idrogeno con un protone e un neutrone cioè questo si chiama idrogeno pesante da cui deriva l'acqua pesante attenzione non c'entra niente è utilizzata dentro le bombe nucleari ma questo è un centro quindi sono atomi idrogeno pesanti qual è la cosa cos'ha scoperto Shepinov lui dava pensate dei cibi e l'acqua all'icchia degli animali di esperimento ha cominciato con quelli proprio di basso livello a livello proprio dei vermi per aumentare poi la scala diciamo gerarchica della vita e si è accorto che la vita cioè l'icepan la durata della vita aumentava del 30% quindi lui ha cominciato a pensare perché succede questo cioè lui ha fatto addirittura una prima pubblicazione poi è subito da altre due pubblicazioni in cui ha detto attenzione l'incorporazione di un isotopo presenta all'interno di macromoleole li rende più stabili e non ha studiato solo l'idrogeno tratta anche il carbonio il carbonio 13 addirittura quindi costituente sapete le proteine per fare un esempio strutture proteiche o comunque le macromoleole polipeptidiche carbonio idrogeno azoto cioè assolutamente l'ho lavorato molto sull'idrogeno soprattutto anche per le interazioni che ci sono e con il carbonio 13 cioè ha scoperto che queste strutture diventavano molto meno aggredibili quando erano arricchite di deuterio o di carbonio 13 quindi perché questo qui quindi l'incorporazione dei tisotomi gli dà una resistenza all'ossidiazione alla degradazione ci ha fatto prima una pubblicazione poi confermata un'altra e poi sono cominciate gli articoli però voi capite subito che questa ricerca e poi è andata avanti che scelto non andata avanti però in certi ambienti certe scoperte apparentemente semplici non fanno comodo non fanno comodo cioè non fanno cassetta capite qual è il problema è tutto riguardi cari colleghi purtroppo questa è una triste verità non fanno cassetta la cosa succede attenzione guardate la struttura guarda questa è la struttura polipeptilica cioè sono il legame idrogeno sono le interazioni vedete tipo le interazioni di ponte di Van der Waals i ponti disolfurici i legami ionici qui si agisce a questo livello si lavora cosa succede quando vengono guardate il lavoro questi sono atomi di idrogeno normali attacco di radicali libri eccolo qua vedete alla struttura guardate la struttura di una proteina potrebbe essere la catena polipeptilica guardate a questo livello quando le interazioni sono più deboli che si tratta il legame idrogeno che un decimo il legame ecovalente ma pur sempre o quelle di tipo proprio Van der Waals quindi dipolo dipolo ma guardate la presenza del deuterio lo rende o anche del carbonio 13 li rende decisamente più stabili decisamente resistente all'attacco radicalico e questo è venuto fuori allora vedete questi che ho detto caro Giorgio questo meccanismo si torna tutto ma è questo è importante cioè la presenza di soloporti del deuterio attivato mi hanno detto loro gioca su questo è una conferma cioè sta giocando su questo per questo spiegherebbe tante proprietà oltre a quelle che naturalmente sono venute fuori poi dagli studi fatte come sappiamo benissimo da lei che ha fatto un accenno ma importante sono d'altra parte sono disponibili su PubMed che ha fatto prima per esempio l'amico Canestrari che ha dimostrato la capacità di resistenza antiossidante da parte dell'attività antiossidante importante del self-food ma poi soprattutto gli studi che ha fatto poi la Ferrero con Fulgenzi a Milano confermata da Roma l'università diverse su linee cellulari diverse conferma lo stesso risultato attenzione e uno risultati clamorosamente sapete cos'è il fatto proprio di andare a lavorare in edizione del famoso fattore ipossico 1 alfa che è come vedremo un importantissimo fattore di trascrizione a un ruolo potentissimo nella situazione di possia cellulare e tumorale come vedremo domenica per chi parteciperà benissimo la vede la pieca pulificazione di matrice cellulare questo che ha detto abbondantemente di Giorgio ma è più che la famosa discorso di trascarare piano piano perché come me ne sempre non lo ha mai assunto certo se la se la sua ma soprattutto quello ha dimostrato poi anche la Fiavero la disfunzione endoteriale il supporto endoteriale insieme al silicio venne fatto poi dopo il lavoro aveva fatto con la professoressa Abamonti sempre della patologia di Milano biochimica clinica invece non sembra uno studio proprio sui parametri di fidici utilizzando guarda caso il silica insieme al selfhood pensate che vi dirò proprio il lavoro anche su quei promessi parametri che erano fondamentali al fine di sfavorire la disfunzione endoteliale sapete tutti che sapete tutti me lo auguro e l'endoterio è il terreno di battaglia dove nasce l'infarto e l'ictus nasce di se l'endoterio pulite legatevene delle statine chi ve le prescrive ditevi dottore caro se le metta eh cioè vero si certo le dico si io dirò ai miei pazienti ti ha dato le statine ah con 212 colesterolo hai fatto la doppia le pulite ossia le tarotidi se le metta in quel posto dove sa e scusatemi quando ci va ci vuole cambi pazienza bene il benergen che qui parlerò però voglio accennare questa perché è importante perché questa qui è un po' la premessa della titoterapia guardate questa è una formulazione veramente partita io stessa l'ho usato uso una dermatite da contatto di premetto di pelo di gatto i gatti a casa l'altra parte li amo e c'è niente da fare io preferisco soffrire ma averli hanno portato anche qualche pulcettina hanno sensibilizzato guardate io proprio mi ricordo l'ave chiesto alla moglie la caramone di Giorget mi dai un bio energente il pesce ti voglio provarlo per bene profondamente un bel dosaggio lo sapete veramente migliorata in modo cramoroso la sintomatologia delle matite ma se si va della composizione questa è geniale perché questa è la fatta il dottore almanetti che lui è un ecobiologo la guardata una persona una persona squisita già quello un collega di te ma poi l'ha formulate con il raziocinio ci ha messo insieme un mix che è quella famosa vi dico sempre dove la grande forza della fitoterapia è la sinergia anche la nostra scelta ma in particolare la stessa pianta se vuole guardare le piante che sono farmologocinite attive hanno una serie di componenti bioattivi che non sono per caso tipo rosa canina con l'acido ascorbico e certi tipi di bioflavonoidi che chiamavano pensati vitamina P fito no? fitovitamina una volta sono i bioflavonoidi per esempio se guardate ogni pianta non è un caso quindi faccio un'introduzione a ciò che dirò la prossima volta che sia proprio composta in quella maniera e qui ci ha messo un insieme di diciamo di piante ognuna delle quali ha un'azione veramente importante separata per esempio guardate anti azioni possono essere di equilibrio intestinale un depurativo da matrice extracellulare antiossidante addirittura anche favorente eventualmente un supporto alle diete intoleranza alimentare perché direita sempre nel discorso però del controllo dell'istamina tonico dell'umore allora questo è veramente un prodotto straordinario guardate quercia marina mi dice ah ma se io ho lì porti dipertiroidismo e beh certo il professionista deve vedere questo che ci può essere dello iodio in più ma questo va valutato va valutato chiaramente sempre la schizzandra adattogeno meraviglioso la centella renante la salsa fariglia antiossidante eppure drenante la damiana addirittura attiva anche a livello tonico di quelle parti per l'uomo la scusellaria la vitamina sonnifera meravigliosa per lo stress un antistress naturale quindi ha fatto un estratto accuso e tutta questa formulazione guardate la potenziata mettendola in una soluzione colloidale quindi guardate veramente un prodotto il decorativo per eccellenza io il bionergeno con uno stile di vero depurativo la pulizia di matrice proprio della pelle addirittura una sperimentazione in dermatologia per il benessere ocultano hanno fatto più uno studio e intanto si erano accorti anche addirittura che facendo questa somministrazione avevano dei pazienti una risoluzione dei problemi di stipsi perché ripeto la composizione così completa non è solamente finalizzata a dire sono solo la centella l'artiglio del diavo che tra l'altro è un antinfiammatorio l'andografis ne parlerò la prossima volta colcene immuni meraviglioso immunitario sostegno immunitario l'andografis ultimamente sono usciti un sacco di lavori poi addirittura toni alla sfera sessuale sì perché c'è sia la stessa ma soprattutto la damiana e non solo quindi vedete quanto si usa questo qui allora in pratica guardate vedete questo protocollo c'è un uso generale e poi c'è quello specifico io ve l'ho lasciato apposta nello scritto proprio quante sono vedete per esempio questo discorso delle matite posso essere utile adesso Maurizio ha fatto come sai la formulazione quella addirittura più potenziata aggiornata addirittura ci ha messo anche il mirtillo rosso ah meno male ancora adesso ha messo il dosaggio di quella nuova con 40 gocce due volte al giorno oppure 25 gocce tre volte al giorno sì 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 io l'ho usata infatti a quel dosaggio lì quando ho fatto questo bel bolo io ho fatto va bene 20 gocce tre volte al giorno questa qui e ho visto già un miglioramento netto proprio della sintomatologia estaminica quindi infatti è una cosa che subito ho fatto notare a Maurizio guarda Bartolomeo Allegrini dice sempre che lo utilizza ormai dice la triade no? e lui utilizza sempre self food same e bioenergen nella pulizia di matrice la pulizia di matrice depurazione sì e fegato e e quello che ha visto è proprio questo poi lui dice cervello di pancia ma il cervello di pancia certo bioenergen lavora sul cervello di pancia quindi ecco volevo dare questa testimonianza sì sì no no ma è importante sì sicuramente io ho visto che infatti io per questo anche ora lo dico in diretta ho stimolato sia Giorgio che Maurizio Armanetti ho detto anzi a partecipare anche attivamente alle nuove formulazioni e oltre a cerimune queste possono essere veramente ad ampio respiro basta quelle tre quattro formulazioni per risolvere un sacco di problemi perché vi ripeto cioè viene tenuto a questo punto proprio della sinergia dei singoli componenti ai fini specifici quindi vedete ecco il famoso protocollo di depurazione ecco che può essere così però un self food un silica food un vitamina C plus ma ci metterei anche attenzione da MSM qui eh ci metterei anche il bioenergen vedete da 10 a 20 con con la nuova formulazione di base è decorativo sta parlando della decorazione di base della matrice c'è sempre la base del self food come depurativo il silica molto importante come si è visto per la matrice per la mac la vitamina C ugualmente io metterei anche ripeto il MSM anche potrebbe essere ma questi quattro sono proprio ecco un po' il quartetto il po' che diciamo di depurazione ecco direi che io per stasera avrei terminato questa vi ripeto è stata una caratterata piuttosto di protocolli e poi darò anche in maniera specifica se ce ne sono avanti ah sì scusatemi ecco sì ci sono guardate ho preparato alcuni supporto cutaneo bioenergen silica ecco ecco vedi l'MSM e poi l'oxygen gel che diceva Giorgio proprio eccolo qua il supporto cutaneo l'avevo preparato questo protocollo ecco era poi l'ultimo che oltre diciamo quello di depurazione poi c'è ecco questo che lo scrive già che ha parlato Giorgio c'era anche il supporto cutaneo ci sono ci sono messi anche l'MSM giustamente che è molto importante ecco questo era un po' ora Giorgio ragazzi ha usato un termine che non lo usare per Giorgio che mi fa le linee guida le linee guida mi ricordano queste maledette le linee guida che hanno ingabbiato tutti hanno ingabbiato dove si cerca di uscire dalla gabbia diciamo protocolli eh protocolli mi calma di più la linea guida c'è sempre ah devi seguire le linee guida e ma le linee guida dicono questo capito quindi come sai da quando mi occupo di supporto e di fattori epigenetici dico che dobbiamo fare una medicina di precisione personalizzata assolutamente e soprattutto che possa essere utile e quello che che volevo aggiungere se mi permetti è questo il Dye Switch gli studi ha dimostrato questa riduzione della massa magra la riduzione della massa grassa e aumento della massa magra è un prodotto che viene chiamato in Sudafrica self food sport addirittura proprio perché viene utilizzato negli sportivi il protocollo per lo sport è self food diet self food gocce più multivitaminico quello che è stato e viene utilizzato tutt'oggi dai più importanti triatreti e sportivi se a qualcuno è interessato il silica diceva il professor Miceli è stato studiato dall'Università di Milano e ha dimostrato in quattro mesi a venti gocce tre volte al giorno ricordatevi sempre di diluirlo in un bicchierone d'acqua pieno ha dimostrato la riduzione e rientro dei marker proprio dell'osteopenia osteoporosi e dimostrò Mauro anche l'azione sulle LDL ossidate quindi il silicio questa è un'altra volta conferma di quello che tu stavi dicendo dell'importanza del silicio anche nei problemi cardiovascolari e l'asticità dei vasi sanguigni eccetera eccetera il same e la è